Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Loot River, un gioco che è uscito da pochissimo su Steam ed è un roguelike, quindi non innova, non porta nulla di nuovo nel genere. Costa parecchio perché costa 24,99€, poi offerta lancio a 22,49€, il gioco è uscito il 3 di maggio, lo andiamo a provare Altogether. Possiamo continuare, caricare una nuova partita e io continuo la mia. L'ho giusto iniziato per capirne un pochino le basi, anche se devo ancora farne comunque apprendere bene tutto. Abbiamo le frecce direzionali del pad, perché sto giocando col pad, con cui si attivano pozioni, quello che vedete in alto a sinistra, in quella caroce direzionale in pratica. Poi con RT e RB si fanno i vari attacchi, vari tipi di attacchi. Con la X, come ogni buon Souls, si va a cambiare l'arma. E poi vabbè il tasto A per arrotolare, si può accarezzare le galline con la Y Cocodè. E qua abbiamo IFIS, portami tutti i manufaticatori. Ok. Praticamente noi possiamo andare a spendere i soldi che troviamo in giro per il mondo, potenziando noi stessi. Insomma qua abbiamo tutto l'inventario. L'inventario è un gioco in italiano e si può salire di livello, appunto andando a potenziare una delle specifiche qua, segnate sulla sinistra. Proviamo la mappa. E il gioco, come ho detto, non innova nulla, ma, qua, vabbè, ci sono che delle zone chiuse che poi si apriranno, ma è tipico come anche giochi come Hades. La novità che introduce questo titolo è il fatto di poter interagire con delle piattaforme. Allora, parla, X acquista. E qua si può andare appunto a potenziare andando a spendere conoscenza accumulata in battaglia. Dicevo, si introduce a questo gioco una meccanica abbastanza curiosa perché possiamo muovere quelle zattere che vediamo qui avanti. Qua si può investire pozioni, che non ho idea di come funzioni, perché io prima le ho investite tutte, adesso non ne ho neanche una. E in sintesi, usando lo stick destro del nostro pad, possiamo andare a muoverle e quindi al che ci sblocca infinite possibilità di interazione. Perché vedete che in questo caso io, qualora mi trovassi di fronte a qualche nemico forte, questo l'ho schivato come niente, ma... Qualora io mi trovassi magari di fronte a tanti nemici, io posso magari mettermi in una posizione tattica, ne attivo uno solo, vedo a lui, che sembra anche abbastanza fortino, poi posso andare e attirare eventualmente gli altri. L'animazione dell'acqua è molto bella, trovata molto carina. Questo mi fa tantissimo male, ma no, in realtà no. In realtà sì, invece, perché mi ha praticamente ucciso. E sto prendendo fuoco e sono già morto. Morto e incinerato. Praticamente noi a SAP possiamo investire pozioni, adesso lo trovo a quello là. Però cavoli, ah, adesso abbiamo quattro pozioni. Ah, sì, ho capito che cosa ho fatto. Praticamente noi, parlando con SOAP, possiamo investire pozioni e lui ce ne dà il doppio. Ma al momento non ne abbiamo. Perché non ne abbiamo? No, non posso... Ah sì, ok, così. Ne investo due. Praticamente io vado in avventura e quando torno me ne darà il doppio. Quindi me ne darà quattro. Va bene. Intanto adesso speriamo sia diverso da prima. Beh, mi ha già menato della grossa. Questa era abbastanza forte, mi curo subito. Vedete che posso andare a muovere. Il mondo è già cambiato. Ok. Bisogna farsi furbi un pochino perché poi è una sorta di... di puzzle game. Gioco che sembra aver avuto comunque qualche problema dal punto di vista dell'ottimizzazione. Perché dicevano che praticamente con queste pedane, con queste zattere, si creavano dei bug e ci si trovava praticamente completamente bloccati. Però questo, vabbè... Nulla che, secondo me, non possa essere risolto con qualche patch. Comunque adesso vedete che adesso io me li attiro uno a uno. Questo qui fa a veleno, quindi devo fare attenzione. Adesso vedo di attirarmene uno, uno solo. Mi faccio l'attacco potente. Devo ancora prendere bene tutte le meccaniche. Quell'altro è un po' più cattivello, quindi magari me ne tengo un po' alla larga. Questa invece non si muove, è una pedana fissa. Credo. A meno che io non sposto questo. Eh no, me la muovo tutta invece. Era proprio questa parte qui che mi bloccava. Interessante come cosa. Non mi muovo perché c'è quello lì sopra che mi dà fastidio. Quindi mi muovo qui, mi muovo qui. Ok. Sì, non che mi serva nulla, ma... Merdas. Eh, continuo a perdere punti vita. Devo ancora capire bene come funzionino le mappe, perché in alto, comunque possiamo andare a vedere la mappa che abbiamo sbloccato. La meccanica è quella di un rooglike, quindi si va avanti, si cerca di non morire e ci saranno svariate try da poter fare. La cosa un pochino più... Uh, anello di forza. Equipaggia. Assolutamente. Aggiunge un punto di forza. A per equipaggiare. Allora, è perfetto, quindi dovremmo averlo equipaggiato. Infatti lo vediamo lì sotto, abbiamo 11 di forza, adesso non abbiamo più 10 come prima. È interessante, però sarebbe anche interessante capire dove andare. Allora, intanto il gargoyle qui lo spianiamo subito. Questi salgono entrambi e va bene. Le pozioni le abbiamo finite, quindi bisogna fare attenzione. Io mi evito quello, mi evito anche questi. Vado avanti. No, qua torniamo in un vicolo cieco. Devo dire, non lo sto trovando comodissimo come controllo perché sembra tutto abbastanza in miniatura, quindi si fa fatica a capire da che parte ci si è girati, ma è solo questione di pratica. Sono salito di livello, adesso potenzio la vitalità di uno. Non ho più pozze. Questo fa malissimo, secondo me. Lo posso glitchare così in questo modo. Mi scuso per i problemi di microfono che sentite ogni tanto qualche fruscio, ma purtroppo non sono ancora riuscito a capire a che cosa è dovuto, se dal cavo o l'usura del microfono che ormai è da cambiare, ma spero di non doverlo cambiare. Io me ne vado e lo lascio lì. Ok. No, però ecco, è interessante questa meccanica qui, quella con le zatte. Qua sotto, ok. Questi poi vanno giù come niente, quindi li affronto tranquilli, abbastanza tranquillamente. E a volte bisogna proprio fare degli spostamenti particolari per potersi muovere. Uh, sono arrivato in un punto di attacco, ma perché non mi attacca? Ah, giustamente, devo andare qui. Ok. Questa mi puzza tantissimo di boss fight. E non ho neanche pozioni, tra l'altro. Quindi, uh, c'è un tizio con cui si può parlare, ma prima di parlare con Finnegan, voglio, come ogni buon roglaic, esaminare tutto quello che posso esaminare. Ok, vediamo cosa ha da dirmi. Sono condannato a morire per sempre da solo? Senza una canzone da considerare mia? Senti, viaggiatore, hai udito? Di un luogo in cui possano radunarsi le anime perdute? Un santuario? Dici, cielo, sembra grandioso. Ti prego, indicami una direzione con la tua dolce mano. Sono condannato. Ma indicami una direzione con la tua dolce mano? Aspetta. Dov'è? E di là, in basso, ascende il santuario, vabbè. Ma no, vabbè, qua ce l'abbiamo fatta. Credo l'abbiamo finita la zona. È la prima zona che finisco. Siamo sopravvissuti. O si va avanti? No, siamo tornati in questo santuario. C'è soap di nuovo. E ci dà le pozioni. Quindi ce ne dà quattro. Dov'è investite... No, non è stato un pessimo affare. Ottimo. Possiamo investire. In questo caso ne investiamo una. Sì. Nota. E qua si può leggere. Ma chiunque trovi questa notazione. Scappa dal villaggio sommerso in meno di due minuti e riceve un beneficio. Uh, interessante. Quindi ci sarà un villaggio sommerso. Ah, quello di prima. Magino. Ma quindi... Ah, e qua c'è questo pre... Cosa qui? Ascendi alla prima città. Andiamo. E quindi si sale di nuovo. Ok. Abbiamo incontrato soap. Ci ha dato le pozioni. Ah, c'è un timer in basso a destra. La prima città ospitava studiosi e adepti che avevano dedicato la propria vita alla reliquia. Lavoravano duramente senza fine per intravedere uno scorcio di paradiso. Sembra esserci anche una lora abbastanza buona dietro. Comunque siamo alla prima città. Prima città. Quindi abbiamo fatto quell'attimino di pausa in cui abbiamo riscattato le pozioni. E adesso ce ne andiamo avanti con questo. È interessante. Per quanto sia ritraita la questione souls e giochi di questo tipo, non mi dispiace. Il fatto del misterioso, il guardiano, il custode di non so cosa. È tutto così uguale sempre a come ambientazione. No, devo capire come fare qua. Perché qua si sale. Però qua si sale, ma non... Mi servirebbe uno di quelli... Boh. Proviamo a capire. Cerca di capire come funziona. Tac. Aspetta. Anello di destrezza equipaggia. Equipaggia. Mamma, li equipaggiati tutti e due? Sì. Quindi abbiamo adesso di destrezza abbiamo... Uno. Quindi abbiamo uno vitalità, uno destrezza. Ok. Non riesco a capire come fare. Qua. Cioè praticamente... Io posso andare qui, ma non mi porta da nessuna parte. Devo trovare qualcosa che sia alto, tipo questi. Però vedete che questi qua non riesco a salirci. Posso anche muovere queste in realtà perché è basso. Non ho neanche niente da muovere qui così. E... C'è un sacco di roba qui che debba essere utile portare su. Vedete che c'è anche questo che... Non so cosa sia. Ma si può, credo, muovere pure lui. Sì. Non lo so. Non lo so onestamente. Questo è bloccato qua. Cioè qua oltre non va. Quindi non possiamo portare niente su di quel tipo lì di costruzione. Possiamo magari spostare questo. Di qua. Muoverlo su. No, ma non credo, sapete. Questo. Ah, si muove anche questo. Ah, questo cambia tutto. Non ci avevo pensato. Eh no. Mi... L'ho capito dopo. Uh, che cacchio. Ok. Bella anche questa meccanica qui che viene tutto vincolato con l'uccisione del boss. Del boss. Del nemico che tiene tutto vincolato. Infatti adesso che è morto possiamo rimuovere. Io prendo una pozione perché non si sa mai. Ci sono tra l'altro questi anelli che posso usare ma... Allora, vieni qui. Uno alla volta però, eh. Ok, uno è andato. C'è il cavaliere ozzo qui. Ok, è andato anche lui. Qua dobbiamo usare questo, ma non si può... Ah, si. Ci sono andati qua. Non... Minchia, quante gente. Cioè... Dobbiamo prenderne una bassa adesso di piattaforma. Quindi bisogna andare su... Questa è sempre alta. Ok. Quello è cattivissimo. È andato anche lui. Questo non si può uccidere. Intanto possiamo andare di qua. Così torniamo in basso. Uno, due. Attacco speciale. Ok. Anello di vitalità. Equipaggia. Lo metto al posto dell'anello di destrezza. Equipaggia. L'abbiamo equipaggiato pure lui. No, ok. Non serviva. Andiamo avanti. Adesso mi porto via questo che me lo... Me lo... Me lo sistemo singolarmente. Me lo varo a parte. Ok. Ma non stia andando malaccio, eh. Va beh. Sì, che? La lascio lì, eh. Molto bene. Però non ci possiamo muovere. Perché? Perché questo qui... Deve andare di qua. Dai, uno. Attacco speciale. Mi bevo la pozionecina. Questo è alto. Non ci possiamo andare. Però possiamo... Andare... No, di qua non si può. Facciamo così. Tac. Oh, mamma mia. Come la risolvo io sta cosa adesso? Non posso neanche andare in giù. Posso andare in su con questi. In effetti posso andare semplicemente avanti senza... Fregandomi di tutto e tutti. Ok. Oh, le... Oddio, si presta anche questo come mille altre i giochi per una live. Una live di disagio perché morirei subito, ma... Oh, 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 oh... Aia! Maledetto! Livello 3. Ok. Ogni? È andato anche lui. Qui su non c'è niente, quindi dobbiamo prendere questo. Vieni via! Vieni via anche tu Portami via Minchia quanta roba che c'è qua Andiamo via Salve Ah Rupert Salve Sei comunque più bravo in questo Posso aiutarti ad accedere Ad accedere a nuovi incantesimi Ok Quindi Andiamo avanti Incantesimi casuali Raccogli Le armi iniziali hanno incantesimi casuali Spada del colpevole Praticamente posso Sostituirla a una delle due La sostituisco a questa Lascio giù la lancia Vediamo un po' LB Scusami ma E adesso Che cosa ho addosso Spada del colpevole 1 No Voglio la spada del colpevole 2 E' questa No 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 Questo Lancia da artigiano Equipaggio La metto qui Voglio capire dove mi ha messo l'altra Perché non la vedo Lancia da artigiano Spada del colpevole Quindi adesso ho questa spada Che è la spada Tecnicamente Del colpevole 3 Sì infatti Questa fa molto più danno Ok Perfetto Abbiamo preso questo Se tornare indietro E provarla Subito Mobi Comprato merci Di mio fratello Vende la spada del colpevole 4 Non mi interessa Da dove si esce Beh non è male Prendo anche questo Lancia allungabili Non sono mai state inventate I miei gendarmi Del colto Ok Vediamo quanto dura questo Due colpi Per questo 3 Direi che è stato un bel game changer Questo lì ce ne sono troppi Beh siamo lanciatissimi Andiamo a prendere anche questo forziere Anello di forza Lo sostituisco all'anello di destrezza Adesso abbiamo due punti forze E siamo anche livellati Quindi prendo Un punto supplementare di forza Adesso non so dove devo andare Onestamente però vi ammetto Che non so Che fine si faccia Morendo Nel senso che se perdo tutto Tengo qualcosa Non lo so onestamente Adesso Ok Pozioncina breve Prendiamo Ok Pozione 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 Non si sa mai Più che altro ne ho investito una sola Quindi adesso appena torno Dall'altro tizio Mi ritrovo con una Pozione sola Perché Due Due scusate Due Eh non posso scendere Ne scendere Ne salire Quindi Vado di là E sposto Non posso spostarlo Quindi devo mettermi in un luogo tattico In modo da potermi spostare Il cacchio Però Non posso spostarmi Perché questo non lo posso muovere Posso andare solo in su Ma neanche Devo andare in là Ma in su non posso andare Ne in giù Vabbè Mi muoverò con questo Ma non posso andare da nessuna parte Di qua Che sia un vicolo cieco? Probabile Che sia un vicolo cieco Ah no Ok Posso No Non si muove questa cosa Quindi c'è poco da fare Non si muove Non vai in là Non vai in su Quindi di là Non si può andare Oddio Ci sarebbe Volendo anche La mappa Di qua Qua abbiamo per aperto Uno Due E tre Via Si è buggato Ah boss Ok La prima città è stata costruita Con un luogo Semplice Un resto Un meno incroci Un anello di destrezza Sono lì Che ne ho già abbastanza Ho ucciso il boss Ma la sfida Non è finita Allora Se in realtà Adesso Non è che sono messo Proprio benissimissimissimo Però Dovremmo essere quasi alla fine Cioè Adesso ho battuto il boss Quindi Aspetto che finisca un po' tutto No? Uno Due Uno Livello Livello 4 E che livellando Non si guadagna niente Come Oh Questo blocca Le cose Ok Non so dove sia L'uscita di sto posto Però Onestamente Quindi Sta diventando Davvero Molto Complesso Qua L'altro che blocca Ok E adesso ci lasciamo le penne Però Non ho più poze Sovrappopolazione Ah il più veiciatore È stato concesso Di alloggiare Altorione Risultando quindi In numero maggiore Oh Cacchio Qua ci siamo già stati Però Devo capire Magari dove andare Se c'è qualche Qualche uscita Qualche Qualche Cosa Di qua Non l'abbiamo Esplorato Molto Gli do Una spadata Giusto così In amicizia Uno Due Uh Forsiere E qua È finita Qua non c'è più niente Di là E qua Finisce la mia avventura Casino Averebbero Questo è un titolo Un titolo Un titolo senz'altro Fatto bene Tecnicamente Anche graficamente Un pixel grafico Che a me piace Però C'è Però Sono un po' Tutti così I giochi Nel senso Che È bella La meccanica Se avete Spolpato Dead Cells E Hollow Knight E Tanti altri Che ho portato Anche sul canale E ne volete ancora Questo è un More of the same Dipende Non è brutto Assolutamente Bisogna essere appassionati Del genere Quindi Ora Attendo il vostro Pariere Qua sotto Nei commenti E noi ci sentiamo Al prossimo video game play Alla prossima ragazzi E ciao ciao